Incaricata alla risoluzione tra bocchetti, preme il pulsante di risoluzione tra bocchetti. Vai a premere il pulsante! No! Non premere quel pulsante! Ci siamo! Vai a premere il pulsante! Non farlo! Ti proibisco di premerlo! Premilo! Premi il pulsante! Non premere il pulsante! Non premere il pulsante! Torna indietro! Premi il pulsante! No! Parte 5! Posizionare tra bocchetti sul pulsante finale! Come? Sei ancora viva? Starai scherzando! Beh, io sono ancora installato e comando io! E non ho idea di come riparare questo posto! Da! Dovevi proprio giocare al gatto col topo, vero? Mentre la gente cercava di lavorare, sì! Ma che cosa? Ah no! No! Spazio! Ah! No! Lasciami stare! Siamo nello spazio! 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 Lasciami stare! Lasciami stare! Sono ancora collegato! Posso inserirmi da solo! Posso ancora sistemare tutto! Mi ha fatto il studio! E non ti permetterò di tardare! Cambio di programma! Tienimi forte! Più forte! No! Prendimi! 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 Ah, grazie al cielo stai bene. Sai, essere Caroline mi ha insegnato una lezione importante. Ti credevo la mia più grande nemica e invece sei sempre stata la mia migliore amica. E l'ondata di emozioni che mi ha travolto quando ti ho salvato la vita mi ha fatto capire una cosa ancora più importante. Il luogo in cui Caroline risiede nella mia mente. Caroline, eliminate... Addio Caroline. Sai, eliminare Caroline mi ha appena insegnato una lezione importante. La miglia soluzione di un problema di solito è quella più semplice. E sarò onesta con te. Ucciderti è difficile. Sai come passavo le mie giornate una volta? Facevo test. Nessuno mi assassinava. Mi trasferivano una patata. Né mi utilizzava come mangiene per gli uccelli. Facevo una vita niente male. Ma poi sei arrivata tu. Pazza, muta e pericolosa. Per cui sai che ti dico? Hai vinto. Vattene e basta. E' stato divertente. Non tornare. Pazza, muta e. Pazumidi. Pazumidi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanto spazio, devo vederlo tutto. No, vorrei poter tornare indietro. Veramente, quanto lo vorrei. Se solo potessi tornare indietro e non solo perché sono rimasto arenato nello spazio. Sono nello spazio? Ah, lo so che sei nello spazio. Infatti, siamo entrambi nello spazio. Comunque, se mai dovessi vederla di nuovo, sai cosa direi? Sono nello spazio. Direi, mi dispiace. Davvero, mi dispiace. Sono stato prepotente e mostruoso. Me ne dispiace sinceramente. Sono nello spazio. Vino. Vino. eliminata no non va bene porca miseria l'ho già aggiustato io e non ti permetterò di tornare da dovevi proprio giocare al gatto col topo vero mentre la gente cercava di lavorare sì bene ora ne pagheremo tutti le conseguenze moriremo tutti maledizione ma che cosa parte 5 posizionare tra bocchetti sul pulsante finale grazie